Questo è l'estrattore montato e questo è l'estrattore smontato, però sicuramente volete vedere come si fa a montarlo o a smontarlo e ve lo faccio vedere. Adesso lo smonto e lo rimonto perché alcuni hanno avuto delle perplessità chiedendo come si fa quando si blocca un po' il cestello e non si riesce a togliere, cosa che succede anche a me ogni tanto. Quindi adesso vi faccio vedere la mia soluzione. Apriamo l'estrattore, sganciamo i due ganci laterali, svitiamo la parte superiore. Questo cestino ogni tanto, quando è pulito o no, ma quando l'avete già usato si fa fatica a toglierlo. Allora io ho questo arnese sempre a portata di mano, lo inserisco qui sotto e faccio un po' di pressione sopraelevando il cestello. Adesso non ne ho bisogno, però volevo farvi vedere la soluzione. Adesso ovviamente è pulito, quindi non si fa fatica a toglierlo. tolgo la parte inferiore dove da una parte esce il succo e dall'altra la polpa. Faccio una pressione qui sotto, spingo e faccio uscire questo cestello all'interno del quale c'è la coclea che è la parte nera che sminuzza gli elementi. Ancora una leggera pressione, togliamo la coclea e il cestello è la parte più difficile da pulire perché se vedete ha questi bucherellini molto fini e quindi è la parte più difficile da pulire perché poi qua rimarrà tutta la polpa all'interno appunto di questo cestello. Vi viene dato quindi in dotazione insieme all'estrattore questo spazzolino che serve poi appunto per pulire il cestello. È un'operazione un po' fastidiosa, però ecco va fatta e va fatta anche subito perché quando poi si secca la polpa è più difficile da togliere. La coclea è la parte che sminuzza praticamente gli elementi. Questo tipo di apparecchio, l'estrattore, perché ha avuto così successo? Perché gira molto più lentamente rispetto alla centrifuga e al mixer e la centrifuga e il mixer hanno delle lame. Queste lame, girando velocemente, producono calore e il calore va a spezzare gli alimenti chimici dei vostri legumi e della vostra frutta, togliendone le proprietà. Ecco perché ha avuto successo l'estrattore, perché la coclea girando più lentamente non rompe i legami chimici degli elementi e quindi preserva tutte le componenti, sia della frutta che dei legumi. Fa leggermente meno rumore rispetto al mixer e alla centrifuga, ma fa comunque rumore. Adesso andiamo a preparare il nostro succo. Gli ingredienti del succo di questa sera, delle carote, del sedano, un pezzo di cetriolo, una mela, dello zenzero e un limone che andrò a spremere con lo spremi agrumi. Ecco gli ingredienti pronti per essere introdotti nell'estrattore. Ora dobbiamo tagliarli perché il buco è leggermente più piccolo rispetto al mixer e alle centrifughe. Ho posizionato sotto i due contenitori, uno per il succo e l'altro per la polpa che andremo ad eliminare. E adesso introduco le verdure. L'estrattore farà un po' di rumore, ma sempre meno rispetto alla centrifuga e al mixer. E intanto c'è il mio cane che beve. Ma il rumore verrà coperto dall'estrattore. Mettiamo le carote. Il sedano. Possiamo aiutarci con questo coperchio in caso siano troppi di miei elementi da introdurre. Cetrioli. Lo zenzero. Lo zenzero. E infine la mela. E il limone lo vado a spremere con lo spremiagrumi. lascio finire di girare bene l'estrattore perché la polpa ci mette un po' a essere triturata bene. Continua a uscire, vedete? Dopo l'estrattore ha una funzione schiacciate sull'uno va, però c'è anche una funzione che lo fa girare al contrario in caso dovessero bloccarsi gli alimenti. Però quella funzione che gira al contrario non rimane inserita, dovete tenerla voi schiacciata. Quindi la faccio andare per un po'. Vedete che continua a uscire la polpa. Quindi in verità è bidirezionale. Ecco il succo. C'è il mio cane che fa rumore. Adesso lo vado a mettere in un bicchiere, lo vado a versare in un bicchiere, ve lo faccio vedere bene. E vediamo la consistenza del succo. Adesso lo verso perché bisogna anche berlo subito, sennò perde le proprietà. Ho spremuto il limone con lo spremiagrumi. Molto liquido perché ovviamente non c'è la polpa. E adesso lo bevo. Potete vedere il cestello, tutti i rimasugli della polpa che poi andremo a pulire e adesso ve lo farò vedere bene da vicino. Ed arriviamo al motivo principale per il quale ho deciso di vendere l'estrattore. L'ho usato, ho sperimentato tantissimi succhi ma quello che si butta via secondo me è troppo. E poi stasera io ho fatto un succo anche per una persona sola. Pensate a fare il succo per 3-4 persone e buttate via veramente tanta ma tanta polpa. Si vede meglio qui sul piatto, come vedete veramente tanta. A questo punto allora uno si pela una carota, se la mangia tutta così non butta via niente. E poi ne è rimasta ancora ovviamente nell'estrattore. Adesso lo vado a smontare e lo vado a lavare. Ed arriviamo al quarto punto negativo dell'avere un estrattore, dell'utilizzare un estrattore. E' la pulizia che è veramente fastidioso perché se vi fate due succhi come io facevo all'inizio quando mi sono esaltata, l'avevo appena comprato. Mi facevo un succo la mattina, un succo la sera e ero sempre dietro a lavare questo estrattore. Vi danno in dotazione lo spazzolone spazzolino che ha due spazzole, una più piccola e una più grande. E adesso andiamo a lavarlo. Si spinge nella parte inferiore per fare uscire il cestello con la coclea. E vedete ancora qua tutta la polpa rimasta. Questa sarebbe caduta insieme a tutto il resto. Una cosa anche fastidiosa è che bisogna far scollere l'acqua per pulirlo. Si potrebbe magari anche non farlo però è chiaro che viene meglio. E quindi un difetto in più. La parte ovviamente della coclea si pulisce immediatamente. Anche l'altra parte è abbastanza semplice da pulire. La parte più rognosa diciamo così è quella di questo cestello. perché come vedete qui la faccio vedere meglio qua si incastra tutta la polpa e voi dovete andare giù con l'olio di gomito qua spazzolando così su tutta la lunghezza. E così per tutto il cestino. Quindi vedete è veramente fastidioso eh. Adesso spengo e finisco di pulirlo senza stufarvi. E dopo un quarto d'ora eccoci qua con tutti i componenti dell'estrattore lavati con qualche goccia ancora d'acqua presente. Come vedete il cestello è stato ripulito benissimo. Tutti i piccoli forellini puliti puliti. Il cestello purtroppo non si può mettere nella lavastoviglie perché si rovina. mentre tutte le altre cose si tranne questo che contiene un pezzo di plastica qui per cui io preferisco questo non metterlo nella lavastoviglie. E adesso lo ricompongo e faccio le conclusioni finali. pezzo sotto cestello coclea pezzo sopra chiudiamo e voilà i due cestini qui lavati con anche sopra questo Considerazioni finali sull'estrattore che è anche un bello oggetto un po' di design. Questo fra l'altro era anche il meno caro quando l'ho comprato anni fa. Era in offerta promozionale a 129 franchi al posto di 159 quindi 110 euro al posto di 140 adesso costano molto di meno effettivamente però me ne separo perché ho fatto una lista come spesso si fa quando bisogna prendere una decisione ho messo i pro e i contro e nella mia lista sono più i contro. Innanzitutto la spesa iniziale perché dovete spendere i soldi per comprarlo poi dovete tenere in conto di dover tagliare tutti gli alimenti prima di metterli nell'estrattore il terzo punto che è quello che in fondo mi ha fatto decidere adesso di venderlo è quello che si butta via troppa polpa una parte veramente consistente dell'alimento viene buttata via e la quarta anche quella non negligiabile insomma dovete tenerne comunque in conto è la pulizia perché non si può almeno questo modello mettere nella lavastoviglie e quindi ogni volta la pulizia è una parte abbastanza fastidiosa dell'utilizzo di questo interessante robot ma troppo fa sprecare troppo dell'alimento comunque ci ho fatto dei succhi buonissimi rimane un'alternativa per chi non mangia verdure abitualmente si può fare tranquillamente i succhi io me lo sono goduta diversi anni ho fatto tantissimi tipi diversi di succhi tutti buoni perché non è assolutamente in discussione la qualità poi del prodotto che bevete però ecco non mi va più di buttare via così tanto dell'alimento quindi ho deciso di venderlo lo vendo alla vicina a metà prezzo e per me va bene così voilà alla prossima